Ben ritrovati su Sicilia 24, apriamo questo nuovo appuntamento con Spazio Notizia parlando di Covid. Come di consueto la regione siciliana ha diramato il bollettino settimanale e il dato che emerge nell'ultima settimana è che i contagi in Sicilia sono in lieve aumento. Vediamo il bollettino. Nella settimana dal 2 all'8 gennaio in Sicilia si è assistito a un lieve incremento delle nuove infezioni da Covid in linea con la tendenza nel territorio nazionale. I nuovi positivi sono stati 11.284 più 3,47% rispetto alla settimana precedente. Il tasso più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Ragusa, Palermo e Messina. Le fasce d'età maggiormente a rischio sono quelle tra i 70 e i 79 anni, tra gli 80 e gli 89 anni e gli over 90. Questi i dati diffusi nell'ultimo bollettino settimanale del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana. Anche le nuove ospedalizzazioni sono in lieve aumento, sebbene la diffusione dei contagi pregressi si rifletta ancora su una prevalenza di soggetti ospedalizzati con positività concomitante da Covid. Più della metà dei pazienti in ospedale nella settimana di riferimento è risultata non vaccinata. Per quanto riguarda le vaccinazioni, i soggetti nel target 5-11 anni con almeno una dose si attestano al 24,9%, sono 63.827 i bambini, pari al 27,71%, che hanno completato il ciclo primario. Nel target over 12 anni i vaccinati con almeno una dose sono il 90,93%, sono ancora 1.057.593 i cittadini che non hanno effettuato la terza dose. Nello specifico, i vaccinati con dose aggiuntiva booster sono 2.772.333, pari alla 72,39% degli aventi diritto. Le somministrazioni della quarta dose sono complessivamente 226.408, di cui 200.259 a soggetti over 60. Le quinte dosi somministrate risultano complessivamente 7.173. Ed ora la cronaca, partendo da Catania, dove la Polizia di Stato ha tratto in arresto e condotto in carcere un uomo violento che aveva aggredito l'ex convivente. Personale delle volanti è intervenuto in via Plebiscito a seguito della richiesta di intervento da parte di una donna, la quale era stata poco prima aggredita dal proprio ex convivente. Quest'ultimo si era però allontanato prima dell'arrivo della Polizia. Dopo circa un'ora è giunta un'ulteriore richiesta di intervento da parte della stessa donna che segnalava il proprio convivente, il quale si era introdotto nella sua abitazione dopo aver infranto una finestra. Anche in questo caso però l'uomo è riuscito a far perdere le proprie tracce prima dell'arrivo della pattuglia. La donna, che già in passato aveva denunciato l'uomo per i continui episodi di violenza di cui si era reso autore nei due anni di convivenza, ha formalizzato un'ulteriore denuncia per i fatti occorsi nella serata, fornendo anche ai poliziotti la foto del proprio ex. Gli operatori lo hanno riconosciuto immediatamente in quanto soggetto già noto per i suoi precedenti e quindi si sono messi immediatamente alla sua ricerca, individuandolo sul posto di lavoro in cui nel frattempo si era recato. L'uomo già destinatario di ammonimento del questore ha confermato tutto quanto riferito dalla donna ed è stato accompagnato in questura per ulteriori accertamenti. Dei fatti di cui si era reso autore è stato subito informato il PM di turno, il quale ne ha disposto l'arresto per il reato dei maltrattamenti in famiglia e l'accompagnamento presso la casa circondariale di Piazza Lanza in attesa del giudizio di convalida. Parliamo ancora di stalking, ma ci spostiamo da Catania a Siracusa, dove i carabinieri della stazione di Ortigia hanno arrestato su ordine dell'autorità giudiziaria un pregiudicato di 50 anni, il quale nel 2018 si era reso responsabile di maltrattamenti in famiglia e stalking nei confronti dell'ex moglie. La pattuglia lo ha rintracciato e tradotto presso la casa circondariale Cavadonna a disposizione dell'autorità giudiziaria, che ha emesso il provvedimento definitivo. Torniamo a Catania, stavolta però per parlare di spaccio di sostanze stupefacenti e dell'arresto effettuato dai carabinieri di due fratelli, il servizio. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato in flagranza due fratelli di 55 e 57 anni, entrambi già conosciuti dalle forze dell'ordine, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La pattuglia del nucleo operativo, mentre stava svolgendo un servizio perlustrativo per la prevenzione di reati contro il patrimonio, ha notato in via Vagliasindi un'autovettura il cui conducente, inspiegabilmente, teneva una condotta di guida pericolosa, ponendo in serio pericolo i pedoni e gli altri utenti della strada. I militari hanno così immediatamente proceduto a imporre l'alt al guidatore, sottoponendolo a una perquisizione unitamente al passeggero, suo fratello, nonché estendendo la ricerca anche all'autovettura. Lo sguardo allarmato tra i due fratelli è stato notato dai militari, che ben presto ne hanno compreso il reale motivo, poiché all'interno dell'abitacolo i carabinieri hanno rinvenuto in una bustina di plastica una pietra di cocaina del peso di circa 8 grammi, mentre nelle tasche dei due hanno rinvenuto la somma di 119 euro, anch'essa sequestrata perché ritenuta provento dell'attività di spaccio. I due sono stati posti a disposizione dell'autorità giudiziaria, che ne ha convalidato l'arresto disponendo per i due fratelli l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Un rapinatore seriale è stato tratto in arresto sempre nel Catanese. Si tratta di un 32enne che aveva effettuato diverse rapine in diversi esercizi commerciali. Vediamo il servizio. La procura distrettuale della Repubblica, nell'ambito delle attività investigative a carico di Andrea Fazio, un 32enne pregiudicato di Giarre, indagato per i reati di rapina e ricettazione, ha richiesto e ottenuto nei suoi confronti il provvedimento cautelare della custodia in carcere, emessa dal GIP del Tribunale Etneo ed eseguita dai carabinieri della stazione di Mascali presso la casa circondariale di Caltagirone, dove l'indagato si trova ristretto per altra causa. I fatti che hanno originato l'emissione della misura restrittiva si sono verificati nel comprensorio giarrese del mese di agosto dello scorso anno, durante il quale era stata constatata la recrudescenza di rapine a mano armata ai danni di esercizi commerciali del Mascalese e di Fiume Freddo di Sicilia. Le indagini, grazie all'attenta disamina delle immagini dei sistemi di videosorveglianza delle attività economiche prese di mira, hanno avuto un immediato impulso consentendo una verosimile identificazione del responsabile in Andrea Fazio. Gli episodi delittuosi oggetto di contestazione nel provvedimento cautelare sono cinque e hanno avuto come obiettivo del rapinatore una stazione di servizio sulla statale 114, l'operatore addetto alla cassa del casello autostradale di Fiume Freddo di Sicilia sulla A18, una stazione di servizio in via Principe di Piemonte a Fiume Freddo di Sicilia, una tabaccheria in via Siculo Orientale a Mascali e una farmacia in via D'Angelo sempre a Mascali. Emerso che il rapinatore raggiungeva i suoi obiettivi a bordo di una vecchia Fiat Punto di colore scuro risultata essere oggetto di furto. Il suo modus operandi era connotato dalla serialità delle incursioni e dall'utilizzo della medesima autovettura, degli indumenti e delle armi, in particolare una pistola semiautomatica privata del tappo rosso e un grosso coltello, nonché dalle identiche modalità con le quali si rivolgeva alle atterrite vittime, minacciandole di morte qualora non avessero consegnato il denaro. Numerosi ai fini dell'identificazione dell'indagato sono stati gli elementi di riconoscimento sfruttati dai militari, dapprima l'autovettura utilizzata nelle scorribande, recante la mancanza dello sportellino, del bocchettone di rifornimento, la mancanza dei copricerchi anteriori e una vistosa anomalia sulla vernice del cofano motore. Le dichiarazioni delle vittime del reato circa le fattezze fisiche della rapinatore sono state univoche e concordanti nel descriverlo di un'altezza di circa un metro e ottanta, di corporatura longilinea e che indossava una mascherina chirurgica, occhiali da sole, un cappellino con visiera e in particolare nell'evidenziare la presenza su un ginocchio di un tatuaggio visibile grazie ai bermuda solidamente indossati. Tali elementi pertanto hanno permesso di identificare con ragionevole certezza Fazio e sottoporlo ad attività tecnica di investigazione mediante l'applicazione di un sistema GPS sull'autovettura preventivamente localizzata dai militari. Fazio è stato arrestato in flagranza il successivo 31 agosto dai carabinieri della compagnia di Giarre per ideati di rapina consumata e tentata, resistenza pubblico ufficiale ricettazione. I dati informativi acquisiti attraverso il sistema di localizzazione e intercettazione video, infatti proprio poco dopo aver tentato nella mattinata del 31 agosto una rapina in una stazione di servizio Sita in via Ruggero Primo a Mascali, hanno consentito di localizzarlo appena dopo aver realizzato un ulteriore assalto, stavolta portato a termine ai danni di una tabaccheria di Corso Messina. Il dispiegamento delle pattuglie dei carabinieri però lo ha intercettato a bordo della Fiat Punto in corso Europa riposto con Fazio che anziché fermarsi all'alt ha preferito lanciarsi in una pericolosissima fuga tra i pedoni e utenti della strada speronando un'autovettura dei militari e imboccando un senso vietato che inevitabilmente lo ha fatto poi collidere con un'altra autovettura. Nonostante ciò Fazio, riuscendo a uscire attraverso il finestrino dell'auto, si è lanciato in una fuga a piedi per i condomini circostanti fino a quando è stato bloccato e posto in sicurezza dai militari. In occasione dell'arresto in flagranza di Fazio, inoltre, a sostegno del gravoso quadro indiziario delineatosi a suo carico, si è aggiunto anche il ritrovamento all'interno della Fiat Punto di un coltello di circa 30 centimetri, di una pistola giocattolo privata del tappo rosso, di una mascherina chirurgica e degli occhiali da sole da quest'ultimo utilizzati nel corso delle rapine, nonché la somma di 902 euro e un quantitativo di sigarette frutto dell'ultimo assalto appena realizzato. Anche a Caltanissetta sono stati beccati gli autori di un'attentata rapina, in questo caso ai danni di un negoziante. Si tratta di quattro giovanissimi finiti ai domiciliari. Vediamo il servizio. La squadra mobile, nel corso delle indagini preliminari, ha eseguito quattro ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari emesse dagli uffici del GIP del Tribunale Ordinario e del Tribunale per i minorenni di Caltanissetta, su richiesta delle rispettive procure della Repubblica nei confronti di tre minorenni o maggiorenne per il reato di tentata rapina. I quattro indagati sono sospettati di aver tentato di rapinare un commerciante che ha una rivendita di oggettistica nel centro storico del capoluogo. Lo scorso mese di settembre, infatti, agenti della Polizia di Stato della sezione volanti erano intervenuti nell'attività commerciale, in quanto era stata segnalata una rapina. Nell'immediatezza i poliziotti apprendevano dalle due vittime presenti all'interno del negozio che quattro giovani travisati, dei quali uno armato di pistola e uno di coltello, li avevano minacciati al fine di impossessarsi del denaro contenuto nella cassa. La resistenza del titolare aveva fatto desistere i giovani rapinatori che si erano dileguati prima dell'arrivo delle volanti. Gli investigatori della squadra mobile, sin dai primi istanti successivi alla tentata rapina, hanno acquisito fondamentali elementi per la ricostruzione dell'accaduto, esaminando numerose immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza, ricostruendo le fasi di preparazione della rapina, quelle dell'esecuzione e la fuga degli autori. L'attività investigativa ha condotto all'individuazione di uno dei rapinatori, riconosciuto poiché vestito allo stesso modo del giorno in cui aveva tentato la rapina. Condotto in ufficio, il giovane, dopo una iniziale reticenza in presenza del padre, ha ammesso ogni responsabilità e ha collaborato con i poliziotti per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Gli investigatori della squadra mobile hanno quindi individuato gli altri sospettati, i quali anch'essi, in presenza dei propri genitori, hanno ammesso le loro responsabilità, consegnando la pistola e il coltello utilizzati per compiere il delitto. Altri due giovanissimi, due minorenni, sono stati invece denunciati dalla polizia a Milazzo, nel Messinese. Gli agenti infatti li hanno trovati in possesso di petardi e candelotti artigianali. Vediamo il servizio. Petardi e candelotti realizzati artigianalmente sono stati trovati e sottoposti a sequestro nei giorni scorsi dai poliziotti del commissariato di Milazzo. Gli agenti impegnati nell'attività di controllo del territorio, intensificata nei giorni delle festività natalizie appena trascorse, sono stati attratti da un primo boato, seguito da un secondo dopo pochi istanti, entrambi provenienti dall'area prospiciente agli uffici della locale Capitaneria di Porto, dove subito dopo due ragazzi minorenni di 16 e 17 anni sono stati individuati e sottoposti a controllo. Compresa la natura dell'esplosione dovuta alla detonazione di alcuni petardi, i poliziotti hanno proceduto al sequestro di ulteriori 15 candelotti contenenti materiale esplodente, custoditi nel vanno sottosella del motociclo di uno dei due minori, entrambi segnalati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Messina per il reato di fabbricazione e detenzione di materie esplodenti. Dopo gli atti di rito i minori sono stati riaffidati ai rispettivi genitori, sono in corso ulteriori indagini per stabilire la provenienza del materiale sequestrato. Chiudiamo questa edizione di Spazio Notizia ma l'informazione ovviamente prosegue su Sicilia 24, a più tardi. Chiudiamo questa edizione di Spazio Notizia ma l'informazione di Spazio Notizia ma l'informazione ovviamente di questa edizione di Spazio Notizia ma l'informazione di Spazio Notizia ma l'informazione av��